Ovviamente lo vedete, lo avete letto dal titolo, sapete di cosa stiamo parlando, parliamo un'altra volta di robot aspirapolveri che io lo dico qui, lo dico qui, lo confermo, è la tecnologia più interessante del momento, altro che wearable, altro che smartphone. Questo robot si capisce subito un paio di cose, intanto che è un prodotto della famiglia Xiaomi, si somigliano tutti molto e sono praticamente gli ultimi, quasi gli unici ad essere venduti anche in colorazione bianca con il dettaglio rosso all'interno della torretta LiDAR. La forma è la classica forma circolare con appunto, vi ho fatto vedere, la torretta LiDAR, due tasti fisici per il controllo manuale del robot e ovviamente la classico sportello qua che si alza per contenere il cassetto dello sporco. Cassetto dello sporco tra l'altro da 400 ml, molto capiente, quindi anche se avete una casa molto grande riuscirete a pulirla tutta con il massimo delle prestazioni perché poi quando le cassette si riempiono le prestazioni di aspirazione un po' diminuiscono e ci sono sotto i fori. Perché? Perché ovviamente poi lo sporco viene passato alla base di aspirazione, c'è anche l'accessorio quello per pulire le spazzole. E parlando di spazzole, intanto vi faccio vedere davanti dove ci sono i vari sensori antiurto, ovviamente dentro ha un ammortizzatore, dentro ha un paraurti. E sotto abbiamo le classiche ruote che devo dire è molto tenace, riesce a passare sopra gli ostacoli più complicati, la ruota frontale, una spazzola laterale, ormai purtroppo devo dire è un po' lo standard, anche se questo comunque è un prodotto top, ma della fascia quella un pochino più economica ci sta. E poi centralmente la spazzola quella alternata fra gomma e setole che devo dire va pulita ogni... almeno per la mia esperienza, poi dipende ovviamente da quanto è sporca, da quanti animali avete, capelli eccetera. Dalla mia esperienza circa ogni 5-6 pulizie per levare un po' i capelli che ci sono dentro. Quindi non è delle migliori in tal senso, ma assolutamente neanche delle peggiori. Qua vedete che c'è uno spazio vuoto, perché? Perché quello spazio vuoto è quello destinato ad agganciarvi questa, che è la base con sopra il pannetto, il pannetto che si leva con lo strap e poi si lava. Io appunto l'ho lavata per decenza prima di questa recensione. Questo è anche il cassetto dell'acqua, qui c'è il tappino in gomma, il motore è all'interno del... all'interno qua dentro qui della base e poi ovviamente si collega e gli passa tutte le informazioni. Questa è da 150 millilitri, non è enorme, per una casa da 100 metri quadri con impostazione intermedia di flusso d'acqua riuscite a pulire assolutamente, però avrebbe potuto essere ancora di più per appunto riuscire magari a pulire, che ne so, al massimo delle impostazioni o con l'impostazione zigzag che lava ancora meglio Il pavimento. Come funziona questo robot? Allora, in termini di aspirazione 4000 Pascal, che è nella fascia più alta delle potenze per quanto riguarda appunto i robot aspirapolvere e devo dire che funziona molto bene, aspira molto bene, c'è l'aumento di potenza quando passa sui tappeti, ve lo farò poi vedere dall'app, siamo assolutamente nella fascia più alta. Soltanto qualche robot, quelli che magari hanno delle spazzole sotto un po' particolari o potenze di aspirazione ancora superiori fanno qualcosina meglio, ma siamo assolutamente, ve lo garantisco, nella fascia più alta. E anche il lavaggio, per non avere le spazzole rotanti come per esempio il Dreamy W10, mi ha sorpreso perché pensavo che questo pannetto piccolo non avrebbe fatto granché, invece mi ha stupito in positivo e devo dire che sono rimasto soddisfatto anche dal lavaggio. Ovviamente ogni tanto dovrete poi voi lavare il pannetto o sostituirlo con uno nuovo. Essendo un Dreamy famiglia Xiaomi, pezzi di ricambio si trovano molto facilmente su Amazon. Molto bene anche la navigazione, la mappatura è perfetta al primo colpo, divide la casa in stanze, poi potete modificarla, ve farò vedere. E veramente naviga rapidissimamente, senza intoppi, è devo dire delicato con gli oggetti a cui si avvicina, un po' meno delicato con quelli da scavalcare, appunto come vi dicevo è molto tenace. Siamo assolutamente nella fascia quella alta per quanto riguarda navigazione, mappatura, pulizia e per non avere le spazzole quantomeno anche lavaggio. La base di svuotamento automatica è ovviamente non piccolissima, come tutte le basi di svuotamento, ma è nella fascia anche qui di quelle più compatte. Vi serve comunque dello spazio dove posizionarla anche perché va aperta superiormente e poi da qui dovete poter avere lo spazio per tirare fuori il sacchetto dello sporco da cambiare. Sacchetto dello sporco, che ovviamente da questa posizione è svantaggiata, non riuscirò mai a rimettere dentro, invece ce l'ho fatta, da due litri e mezzo e che vi garantisce uno o due mesi di pulizie. Qui ovviamente varia in base a quanto è grande la casa, a quanto è sporca, a quanto lo fate girare. Ovviamente queste sono le considerazioni da fare. Nella confezione c'è un secondo sacchetto aggiuntivo. Detto questo, andiamo a vedere l'applicazione così scopriamo tutte le cose che può fare. Ecco qua l'applicazione Mi Home, ho già aperto il profilo del robot Dreamy Bot D10 Plus e come vedete c'è già disegnata la pianta della mia casa con anche tutte le informazioni dell'ultimo lavaggio, dell'ultima pulizia. In alto infatti vedete 57 metri quadri l'area di pulizia, la casa ovviamente è più grande ma questa è l'area libera in terra che ha pulito, 64 minuti e l'autonomia residua in questo momento che è del 98%. Se andiamo a vedere quali sono le impostazioni abbiamo un tasto centrale qua sotto con la possibilità di premere play per avviare e una funzione di gestione mappe. È supportato il multimappa, è supportato il multipiano, andiamo a vedere la mappa corrente, possiamo ruotarla, ma possiamo soprattutto unire o per esempio andare a dividere le stanze per creare degli spazi separati. Cosa ancora interessante, possiamo andare a rinominare queste stanze e anche assegnargli un'icona come in questo caso, se premiamo qui invece su zona vietata possiamo andare a creare un muro virtuale dove il robot non può passare, una zona vietata di pulizia oppure ancora, come quella viola che ho già fatto io, la zona vietata di lavaggio. Questo perché? Perché nonostante come vedremo poi in un'impostazione a brevissimo lui riconosca i tappeti, non va ad evitare l'automatico se c'è installata la vaschetta dell'acqua. Scegli stanza vi permette di andare a eseguire la pulizia soltanto di alcune stanze, zona invece vi permette di andare a disegnare una o più zone, come vedete, anche qui in questo caso per scegliere quali sono quelle che dovete andare a pulire. Torniamo su tutto e vi faccio vedere che in impostazione di pulizia potete scegliere se attivare o meno il lavaggio, in questo caso in questo momento il pan non è montato quindi non posso selezionare questa voce, tre livelli di potenza di aspirazione o anche la possibilità di disabilitarla del tutto che è interessante, ovvero solo lavaggio, nel caso abbiate installato il lavaggio è una funzione che non sempre è presente sui vari robot. Se andiamo in fondo su sequenza di pulizia potete decidere un ordine in cui andare a pulire le stanze, se per esempio avete una preferenza, volete magari quando il robot dà il massimo, ovvero all'inizio perché è ancora il cassetto della pulizia vuoto, potrete appunto scegliere in questo modo di andare a modificare la sequenza di pulizia e poi come vedete qui se volete anche andare a modificarla in questo modo. Torno indietro, ok, sempre qui nelle impostazioni di pulizia c'è una voce che è la pulizia personalizzata che vi permette, andando qui su impostare, di scegliere per singola stanza come pulirla, per esempio questa è la cucina, la cucina voglio che la pulizia sia fatta due volte, che ci sia un volume di acqua elevato e potete così andare a personalizzare voce per voce le singole stanze e il tipo di pulizia. E poi ovviamente ricordatevi di attivarlo o disattivarlo in base a se volete una pulizia tutto uguale oppure divisa per stanza. Impostazione dello svuotamento automatico, potete scegliere se lo svuotamento deve partire dopo ogni pulizia oppure mai, quindi solo manuale, ogni due, ogni tre pulizie. Infine andando qua su nelle impostazioni di dispositivo abbiamo alcune voci aggiuntive come il rinforzo dei tappeti, ovvero la funzionalità che aumenta la potenza di aspirazione quando riconosce il tappeto. Quindi riconosce i tappeti ma poi non li mappa, quindi non si ricorda dove sono ogni volta, li riscopre, diciamo così, e quindi non potete vietare il lavaggio in automatico ai tappeti senza andare a selezionarli manualmente. Modalità non disturbare, riprendi pulizia se casa vostra fosse troppo grande e non riesce con una sola carica a pulirla tutta, e protezione bambini per far sì che non possano andare a attivare il robot con i suoi tasti fisici. Pulizia programmata vi permette di programmare la pulizia che può essere di tutta la casa o di alcune stanze e di ripeterla in certi giorni e in certi orari della settimana. E infine abbiamo, volevo farvi vedere, volevo farvi vedere lo stato, adesso non lo trovo, lo stato dei consumabili che è un'opzione abbastanza comune. Infine il tasto per mandare alla ricarica manuale. E siamo quindi quasi arrivati alle conclusioni, questo era Dreamy D10 Plus, mi rimane da parlare della batteria che è la stessa di Dreamy Z10 Pro, tra l'altro molte cose sono in comune con quel robot che però aveva il riconoscimento 3D degli oggetti, quindi costava un po' di più. 5200 mAh che vi garantiscono quasi 3 ore di autonomia, più di 200 m2 per la mia esperienza di pulizia, anche lì dipende da come è disposta la casa, quante cose avete in giro, però devo dire che è veramente eccellente, molti robot oggigiorno hanno un'autonomia veramente eccellente e questo è assolutamente uno di quelli. Questo Dreamy D10 Plus ha un prezzo di 499 euro, ma da oggi, o almeno oggi quando lo vedrete voi, 24 giugno, su Amazon ci sarà un coupon per abbassare il prezzo a 399 euro. In più mi hanno detto che per i più veloci ci saranno dei premi, tipo dei accessori, tipo dei sacchetti aggiuntivi, eccetera, eccetera. Visto che sto registrando questo prima di quella data, ovviamente non posso confermare, ma ci saranno comunque dei forti sconti sul prodotto. 399 euro per questo robot con queste caratteristiche, che ha tutte le cose fondamentali, base che potreste volere da un ottimo robot a spirapolvere, e con la base di svuotamento, secondo me è il miglior rapporto qualità-prezzo, se state cercando un robot che abbia anche la base di svuotamento, che nel 2022, non dico che inizia a diventare fondamentale, ma inizia a diventare molto importante, anche perché vi semplifica sicuramente molto il lavoro al termine della pulizia, sempre che abbiate il posto dove mettere una base così, se no continuate con un robot classico. Ecco, 399 euro, brava Dreamy, ancora una volta l'azienda è arrivata sul mercato da non tantissimo tempo, ma si sta assolutamente affermando come leader, soprattutto con dei prezzi incredibili, compatibilità con l'app Xiaomi che garantisce tantissime funzionalità smart, e prezzi appunto veramente aggressivi. Grazie per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al nostro canale perché stanno arrivando delle nuove recensioni di robot a spirapolvere, molto molto interessante, e se volete attivate anche la campanella delle notifiche. Un saluto da Emanuele Cisotti per Smartworld.it Emanuele Cisotti per Smartworld.it